Purtroppo questa è una cosa che ogni volta che dico le persone mi scannano raga ma è vera. Purtroppo le compagnie giapponesi hanno proprio un modo di strutturare, sviluppare i propri prodotti all'interno del mercato occidentale che è una rottura di coglione. La Capcom Monster Hunter. Faccio sempre l'esempio che prima dei Monster Hunter World e poi gioca un cazzo dei Monster Hunter qua in occidente su una console normale tu ti dovevi strappare le dita. E ogni volta che dico questa roba la gente mi salta addosso. Perché dice è il Nintendo DS? La PSP? Ma perché secondo voi il Nintendo DS e la PSP per gioco come Monster Hunter sono normali? Io capisco che uno quando parla deve un attimo strutturare sempre il discorso eh. Però nel senso una console normale se intende una console può essere molto all'accesso di tutti come una console Sony, una console Microsoft, una console cazzo dei PC per Dio e compagnia. Faccio ogni volta appunto sto esempio con Monster Hunter World che per carità può piacere o non può piacere Monster Hunter World perché io capisco che non è il top dei Monster Hunter che è uscito ovviamente. Uno può piacere o non piacere. Ma intanto Monster Hunter World ha venduto più di tutto il franchise messo insieme. Perché là si parla proprio delle leggi dei numeri. Cioè nel senso se tu fai uscire un cazzo di gioco su una piattaforma che è accessibile a tante persone vendite più. Lì purtroppo c'è quella roba che la capo per tantissimi anni ed è anche per lo stesso motivo per cui Dragon's Dogma uno sotto molti punti di vista, incompleto, è che non pensavano che i giochi loro potessero funzionare in occidente. È per quello che Dragon's Dogma è uscito molto incompleto e poi invece avevi Dragon's Dogma online che era tipo incredibile ma era disponibile solo in Giappone. È la stessa cosa e stesso pensiero ci avevano per Monster Hunter. Non pensavano che Monster Hunter tirasse da noi. Figa c'era la gente che io conosco che si craccava i server in cinese per giocare a Monster Hunter. Se lo giocava sulla Wii, sul DS, sulla PSP, oh, in giapponese. Infatti poi hanno fatto uscire Monster Hunter World e hanno fatto Ah, ma allora la gente vuole giocarci e ha fatto uno sproppo di soldi. È proprio che i giapponesi di mentalità, di proprio compagnia, so così. Cioè, se tu devi prendere proprio qual è la compagnia che racchiude la mentalità giapponese a Nintendo. A Nintendo dice, tu giochi sulle mie console come dico io, quando dico io, al prezzo che dico io. C'ha la sua autostrada, perfetta, incredibile. Anche patronata da tutte le persone che comprano i giochi, che hanno sei anni ma costano sempre 60 euro. La Nintendo è proprio il perfetto esempio di compagnia che ha sta mentalità. Se ogni volta sembra che sfaccio il razzista, ragazzi, hai visto negli anni. I giapponesi non gliene sbatte un cazzo di quello che fa il resto del mondo. Fanno quello che vanno valore, basta. Il fatto è che poi, in mezzo a tutte queste compagnie, ci stanno quei due, tre team e compagnie tipo Kojima, From Software, quelli di Yakuza. Cioè, ci stanno quei casi eccezionali e fortunatamente di recente la Capcom se sta evolve, Dio Cristo. Meno male, meno male che se sta evolve, perché la Capcom aveva un fottuto potenziale artistico di gameplay, che Dio Cristo, io ripeto, se Dragon's Dogma fosse uscito per bene, completo, fatto come doveva essere, noi oggigiorno non avevamo solo i Souls-like, ma avevamo anche figa i Dragon's Dogma-like. Meno male, meno male, meno male, meno male.